Oggi sono Udine e parlerò del futuro, ma lo farò in una maniera diversa da dal solito. Normalmente pensiamo al futuro come alle linee ere che partono dal presente, come se fosse una destinazione. Mentre vorrei proporvi il futuro come una creatura vivente, come un neonato, di cui tutti siamo i genitori e di cui tutti aiutiamo a crescere e di cui tutti il futuro diciamo. Penso che questo sia un elemento importante, perché oggi pensiamo al futuro, teniamo quello che il futuro sarà. Effettivamente stiamo vivendo periodi molto difficili, però se non guardiamo al futuro con un occhio positivo e con un'apertura, allora lo bloccheremo fin dalla nascita. Oggi è Udine e quindi parlerò di un mondo in cui siamo colpiti dalla globalizzazione, ma che noi possiamo modellare in una smile. Non ho una sfera di cristallo e non sono un indovina. Il mio ruolo è un ruolo intellettuale. Io devo aiutare a questo futuro affinché come creatura vivente sia il figlio di tutti noi che lo cresciamo. Quindi devo aiutarvi a farlo crescere in maniera positiva e a vera. Quindi sono qui per entrare a pensare al tempo non come una singola retta, ma come una singola direzione, ma come una serie di indirezioni che si intersecano e che insieme possiamo continuare a plasmare.